Per ora mi sto godendo questo momento che per me è di tutto nuovo. Sarò comunque contento di trovarmi di fronte Joe Hart e Frank Lampard. È strano avere Frank come avversario, siamo molto amici. A me piace molto l'Italia. Ovviamente il calcio italiano è diverso da quello inglese. In Premier League il calcio è più veloce, più aggressivo, mentre in Italia è forse più lento, ma i giocatori sono molto più tecnici. Ma la Roma gioca molto velocemente e in attacco. Il tecnico Garzia ci dice sempre di giocare alti. Quindi è vero, sono due modi diversi di concepire il calcio. Io mi ci sono abituato a quello italiano. Lo ripeto, è diverso da quello inglese, ma a me piace molto.